In collegamento Gennaro Buonocore, responsabile del settore calcio ICS Napoli, organizzatore dell'evento Un abbraccio all'inclusione, ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Salve, salve. Allora avete presentato un evento che si terrà allo stadio San Ciro di Portici venerdì 24, Un abbraccio all'inclusione. Sì, sì, venerdì al San Ciro di Portici iniziamo alle 9.30, calcio d'inizio della prima delle sei partite di questo quadrangolare con Nazionale Italianattori, Nazionale Italiana Medici, rappresentativa delle amministrazioni comunali di Portici e San Giorgio Acremano e rappresentativa a Sotenti Techmed. Qual è l'obiettivo? Coinvolgere anche i più giovani in questo progetto di inclusione a supporto di coloro che sono stati meno fortunati? Sì, assolutamente sì. Un abbraccio all'inclusione è inteso come un abbraccio generale verso temi quali minori, migranti, violenza sulle donne e disabili. L'obiettivo è stato appunto quello di sensibilizzare i ragazzi che studiano alle elementari, medie e superiori sia dei comuni di Portici che quello di San Giorgio attraverso un contest che abbiamo preparato ovviamente prima di questo evento sportivo. Il contest praticamente ha previsto un disegno da fare per i bambini delle elementari, un tema per i ragazzi delle medie e un progetto se fosse al posto di per i ragazzi delle superiori andando a compostare un attimo il loro senso critico e chiedersi se fosse al posto di un dirigente cosa farei per risolvere questi problemi. Quindi praticamente è un progetto che va oltre lo sport, un progetto che si coniuga fortemente con il sociale? Allora lo sport è molto importante come volano per tutti i progetti sociali, ovviamente AICS essendo un ente di promozione sportiva ha proprio come obiettivo nel suo statuto tutto l'aspetto sociale, quindi facendo calcio amatoriale, organizzare eventi del genere è il target della nostra associazione. È importante e fondamentale perché soprattutto il calcio ha un volano mediatico importante e utilizzare questi eventi sportivi per portare un progetto sociale soprattutto nel mondo delle scuole è fondamentale e di grande rilevanza. Allora noi la salutiamo, la ringraziamo e intanto invitiamo i nostri tre spettatori all'evento una partita per la solidarietà e per l'inclusione alla San Ciro di Portici la 24 marzo, naturalmente l'ingresso è gratuito dalle 9.30. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci.